Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto come calciatore e come uomo. Sono stati anni bellissimi pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie. Non sempre andato come speravo o come meritavamo, ma ci siamo sempre rialzati. Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti. Qui ho trovato compagni speciali. Mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini e questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere l'altezza. Siamo stati insieme sette anni. Sette anni di momenti bellissimi e anche di qualche momento difficile. Le nostre strade oggi si dividono, ma io vi porterò sempre con me nel mio cuore, perché mi avete dato tanto amore, tanto rispondo. Io spero di avervi dato un po' di gioia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.